Bella a tutti forniters, benvenuti sulle on tube, eccoci in questo video per andare a fare gli incarichi della settimana numero 11 e nello specifico andiamo a fare oscilla 10 volte usando gli spara ragnatele del ragnoverso prima di atterrare, ok eeeh il ragnoverso, la ragnatela la troviamo qui da Gwen che sta qui in questa zona sponte schiaffosa un po' più avanti c'è anche la missione di andare a comprare il ragnoverso e la ragnatela questo qua lo usiamo, vediamo se riusciamo a usarlo 10 volte ok, qui sono atterrato, non ce l'ho fatta e sono quasi morto tra l'altro ok ci riproviamo oh mamma si attaccano, ok bene, perfetto aspettiamo che si ricarica qui ora non ce l'ho fatta ecco qua è stata completata, bisogna usarlo quindi 10 volte di fila per completare questo incarico se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel mi piace condividetelo con i vostri amici nei vostri social non dimenticate di lasciare un commento e come sempre se vi va vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti ciao a tutti ciao a tutti